Il Comune di Vasto ha sempre puntato sulla cultura. Numerosi gli appuntamenti in programma anche per il 2023, come sottolinea l'assessore Nicola De La Gatta. Abbiamo portato avanti nel 2022 un lavoro importante a livello programmatorio perché, come sapete, il treno del PNRR sta passando e ci chiede per adottare e realizzare una riqualificazione di tutti i beni culturali comunali una programmazione seria. Accanto a questa una serie di iniziative, la promozione delle attività culturali, che quest'anno verteranno secondo tre filoni. Anzitutto gli eventi che riguarderanno il sistema musicale. Basso è una città della musica, esperimenta i suoi linguaggi anche attraverso istituzioni pubbliche come la scuola civica musicale. Quindi torneranno i concerti di mezzanotte, ci saranno importantissime iniziative culturali e a livello proprio di eventi e manifestazioni. Poi il filone delle manifestazioni letterarie e quindi ben tre festival letterari che aggregheranno da giugno fino a settembre non solo la popolazione turistica ma anche la popolazione residente. E infine Palazzo d'Avalos, che è la bomboniera e la cornice della nostra cultura, che nelle sale del quarto della Marchesa, restaurata in occasione del bicentenario paliziano del 2018, accoglierà ben quattro mostre nei locali che oggi stanno ospitando fino al 3 di maggio una mostra evento sul De Divina Proporzione e quindi incentrato sulla figura e le capacità del genio di Leonardo da Vinci. Una mostra che sta riscuotendo grandissimo successo, una mostra anche volutamente didattica e quindi sta facilitando l'adesione di tantissimi istituti scolastici del territorio e della città. Grazie a tutti.